Silmo Cavallaro, questa sera si sbisce qui a Torianovo, una piazza granita di gente. Qual è l'emozione da un cantante come lei, con il pubblico che lo segue? L'emozione è tanta, sempre tanta, ma in questo periodo è un grande piacere di poter rincontrare un pubblico, salire su un palco dopo tutto questo periodo di pandemia che ci ha frenato e che ci ha bloccato e adesso si è visto un po' di spiraglio, un po' di riprendere un po' la vita normale. Speriamo che si vada avanti bene, che nel futuro le cose non peggiorano perché in questo momento sembra che le prospettive non siano molto buone, però speriamo bene. Sappiamo che questa sera sei a Torianovo, domani sarai a Cosenza e proseguo ancora il tour. Siamo ancora in tour, abbiamo qualche altra data, dovremmo essere giorno 11, salvo cambiamento, dovremmo essere a Reggio Calabria di nuovo e poi il 22, se non erro, a Vipo Valenza. E concludiamo l'estate? E poi dovremmo concludere.